Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che non è che non ci sono nuovi video perché per qualsiasi motivo è solamente perché ho preso qualche giorno di ferie, di vacanza con la mia famiglia quindi sono in una fantastica isola che è la Sardegna e perché ovviamente come molti di voi sanno i mesi di luglio e agosto insomma prodotti, prodottini, ce ne sono diciamo pochi in uscita però, però, primi giorni di agosto, dai primi giorni di agosto si riprenderà con i video normali settimanali e ci saranno anche qualche novità hardware da recensire auguro che arrivino prima possibile, dovrebbero arrivare proprio negli ultimi giorni di luglio e primi di agosto quindi si tratta solo di aspettare ancora una settimana, dieci giorni e intanto auguro tutti comunque buone vacanze per chi le fa, per chi non le fa buona permanenza nelle città dove siete e per chi le farà in futuro e ci vediamo i primi di agosto ciao a tutti